di nuovo ben ritrovati ragazzi quarto video di questo lunedì è un video che cambia un pochino l'organizzazione del canale perché non era questo il video che avrei dovuto fare il video che era in programma le 18 lo faccio domani mattina alle 9 quindi un motivo in più per invitarvi a attivare le famose notifiche detto ciò partiamo con la nostra intro allora ragazzi ben ritrovati a tutti voi allora vi ricordo subito una cosa importante mi raccomando in descrizione a tutti i video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti questo nostro progetto a gestione familiare ragazzi questo è un canale di tifosi della lazio tanto per farvi capire padre e figlio accomunati da questa passione che parlano di lazio insieme anche a degli amici che poi nell'arco dell'avventura dell'anno si aggiungono allora mi piace ringraziare a modo mio se nel video precedente ho ringraziato i nostri abbonati che hanno avuto un'impennata nell'ultimo periodo e li ringrazio di cuore perché forse hanno capito il senso di quel video che ho fatto domenica scorsa adesso ci tengo a ringraziare nello specifico anche un'altra categoria di persone una categoria di persone che farà capire a tutti quanti soprattutto ai nuovi iscritti l'entità di questo canale ma per entità non intendo la grandezza perché questo è un canalino ragazzi mi piace sempre chiamarlo così è un canalino ma per farvi capire fino a che punto arriva questo canale fino a che punto arriva soprattutto la lazialità ok quindi nello specifico oggi voglio andare a ringraziare tutte le persone che ci seguono da tutto il mondo quindi un grazie di cuore a chi ci segue da dall'italia indonesia brasile germania albania regno unito stati uniti francia svizzera uzbekistan russia spagna turchia argentina algeria ecuador vietnam romania canada belgio georgia ucraina peru marocco tunisia austria grecia paesi bassi messico kazakhistan polonia thailandia macedonia del nord serbia india pakistan portogallo senegal colombia kirgikistan corea del sud armenia malesia malta costa d'avorio giappone bangladesh croazia miammar e bielorussia e ritenevo corretto fare questo cominciare dedicare qualche secondo a chi ci segue praticamente come avete potuto vedere ragazzi da tutto il mondo ci seguono su questo canale chi un utente chi due chi tre chi dieci chi quindici comunque canale forza lazio è orgoglioso di far compagnia ai laziali chiaramente nella stragrande maggioranza in italia ma poi ragazzi proprio distribuiti in ogni parte del mondo e questo quello che avete visto è un report ufficiale che manda periodicamente youtube appunto al sottoscritto quindi un grazie 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 di cuore perché delle volte oltre che andare ad affrontare gli argomenti subito è anche giusto fermarsi un attimo e guardarsi e ringraziare chi davvero è vicino a noi allora vi ho detto che il video non doveva essere questo è cambiato nei contenuti perché è cambiato perché c'è stata la notizia dell'ultima ora la notizia nell'ultima ora è che il bambino viziato il bambino che si fa rodere il culo tutte le volte che arriva l'estate testo periodo perché c'è sempre qualche forse i caldi i calori e danno fastidio il caldo gli tocca qualcosa nella testa e deve fare le lagne ieri alzato la caciarata come alzato la caciarata lo vedete in sovraimpressione ieri sera verso le 22 luiz alberto perché di lui che sto parlando cosa ha fatto ha avuto la brillante idea di dire vabbè intanto l'ambiente della lazio è sereno e tranquillo mettiamo un po' di pepe andiamo un po' a peggiorare ancora di più la tensione all'interno di un ambiente già di per sé è saturo per tanti motivi legati soprattutto al calcio mercato e quindi il buon luiz alberto ha deciso di rompere i coglioni scusatemi ma quando ci vuole ci vuole di rompere i coglioni con questo post con questa storia su instagram e queste le cose non sono finite poteva sembrare un capriccio del del giocatore ma non so finite perché non dovete credere a chi vi scrive oggi che luiz alberto è rimasto in palestra a fare fisioterapia per un risentimento muscolare perché è una grande cazzata luiz alberto ha minacciato di tornare a roma ok ha minacciato di tornare a roma e di ritenere concluso il suo ritiro ad aronzo di catore allora la domanda è una caro luiz alberto ma chi ti credi di essere tu stai sotto contratto e ti devi attenere a quello che il tuo datore di lavoro ti fa fare non minacci di andartene ok attenzione faccio sempre la solita premessa perché sennò qua c'è la storia di chi dice ecco date contro all'uomo no a me dell'uomo non mi permetto di giudicarlo così come l'ho detto per altri calciatori per tare io giudico ragazzi il calciatore e i suoi atteggiamenti ok allora il buon luiz alberto ha minacciato di tornarsene a roma e lo tito che usa tanto il pugno duro e assolutamente lui usa il pugno duro arsa la voce fa vedere che che comanda lui che fa tutto lui no non ha risposto cazziando luiz alberto magari dicendo luiz alberto scusami se te lo dico ma sei un po stupidino perché stai a fare le lagne ti ho sai che sono un uomo di parola ti ho promesso l'aumento di stipendio non rompere i coglioni adesso siccome faccio tutto io dentro sta società perché non mi fido di nessuno e non mi fare calcio mercato non mi fare perdere tempo col tuo rinnovo perché appena finisce il il calcio mercato mi dedico a te ok questo è il discorso che doveva fare lo tito ok e invece no e invece no le lagne del bambino viziato perdonatemi ma io così lo giudico e non giudico il calciatore che è straordinario ma ormai inutile che lo stiamo a dire le lagrime del bambino viziato ossia il post che vi ho fatto vedere poco fa la sua storia su instagram e poi il fatto che questa mattina non sia potuto presentare agli allenamenti hanno sortito i loro effetti perché lo tito gli ha rinnovato il contratto e già sono le 16 e 21 esattamente un'ora fa luiz alberto ha siglato il suo nuovo contratto e con le sue lagne da bambino viziato ha ottenuto ha ottenuto ciò che voleva ma l'avrebbe ottenuto quale era un discorso di tempi il primo settembre lo avrebbe ottenuto quale che cazzarola te cambiava luiz alberto invece di inquinare un ambiente già saturo un ambiente saturo da un calcio mercato che è fatto a cacchio di cane caro luiz alberto non devi pensare sempre ai cazzi tuoi e basta fai parte di un gruppo fai parte di una squadra e quindi luiz alberto ha ottenuto ciò che voleva ha firmato il contratto sarà ufficializzato forse quando va in in onda questo video sarà già ufficializzato però vi dico che guadagnerà 4 milioni di euro a stagione quello che già si sapeva contratto rinnovato e basta ma allora luiz alberto purtroppo ci ha abituato a sti colpi di testa e ci ha rotto pure al quanti coglioni almeno io mi permetto per quanto mi riguarda a me di farmi prendere per il culo da da un ragazzo viziato no anche no e ripeto non sto giudicando le qualità del calciatore che sono indiscutibili questo ogni estate rompe i coglioni con qualcosa ha rinnovato il contratto adesso tornerà a sorridere vedrete che oggi vorrigio giocherà pure l'amichevole sono sicuro quella che andrà in onda adesso mentre vai in viene pubblicato il il video io so deluso dalla società da luiz alberto già so già deluso perché l'ha fatto sempre sti comportamenti stupidi una volta non vuole venire una volta si presenta a ritardo una volta viene in ritardo con quattro giorni viene in ritiro con quattro giorni di ritardo e ma io so so deluso dalla società che messaggio ha mandato società lazio quando dico società dico lo dito a colpa non è di nessun altro è dello dito caro lo dito che messaggi mandi adesso tutti gli altri membri della squadra si sentono autorizzati ad alzare la cacciarata per ottenere ciò che vogliono questa è l'ennesima dimostrazione caro presidente lo dito che tu stai perdendo la bussola questa è l'ennesima dimostrazione che stai mandando all'aria la lazio imparati a delegare il prima possibile caro lo dito altrimenti sarai sempre costretto a ragionare per priorità come dici sempre tu tralasciando altre situazioni secondarie se c'era un delegato a rinnovi dei contratti zaccagni felipe anderson luisa alberto già erano rinnovati da un mese vi lascio un momento di riflessione in questo video con confidandovi il mio stato d'animo deluso da luisa alberto e dalla società e profondamente amareggiato dal fatto che ad oggi spero di sbagliare ma avendo dura non credo nei miracoli dopo vent'anni questa società sembra non capire come crescere o forse ed è questo ed è questa l'incognita che vi lascio questa è una società che non ha voglia di crescere